In questa puntata spiegherò quali sono i motivi per cui io al momento sto lontano dalle altcoin e i motivi per cui io al momento non ci sto investendo in esse. E in più vedremo anche poi effettivamente quando io inizierò a ritornare ad investire nelle altcoin, perché sì, non è un video questo contro le altcoin, anzi è un video dove io vi spiego cosa ne penso delle altcoin e perché per me in questo momento sono molto 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 pericolose. Prima di iniziare come al solito mi piace e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Questo è il grafico di bitcoin e perché voglio partire dal grafico di bitcoin per parlare delle altcoin. Ragazzi lo sappiamo, il mercato cripto, le altcoin in generale si muovono su bitcoin. Cioè ragazzi che lo vogliate o meno, che vi piaccia o meno, bitcoin è il re di questo settore, bitcoin è il pilastro di questo settore. Ok? Quindi siete bitcoin maxi, non siete bitcoin maxi, non vi piace bitcoin, odiate bitcoin, non fa niente. Ok? Che vi piaccia o meno, bitcoin è il pilastro di questo settore. Bitcoin sale, va tutto bene, bitcoin scende, va tutto male. Per cui in questo momento in che situazione siamo di mercato? Siamo in una situazione che, ripeto, che vi piaccia o meno, siamo in bear market. Ragazzi siamo in bear market, è una condizione di mercato, questa in cui siamo in questo momento, di bear market. Ok? Che sia chiaro. Poi non è un bear market così pronunciato come lo era questo qui del 2000, fine 2021, fino a praticamente novembre 2022, perché credo che poi ci siano effettivamente due fasi del bear market. No? Quella più cattiva che dovrebbe essere ormai lasciata alle porte. Poi ovviamente ragazzi, io non sono un consulente finanziario, questi non sono consigli finanziari, perciò fate sempre le vostre ricerche prima di mettere a rischio il vostro capitale all'interno dei mercati finanziari. Poi come dicevo già all'inizio del video, questo non è una puntata, questa non è una puntata contro le altcoin. Io non sono contro le altcoin e non sono neanche pro solamente di bitcoin. Quindi capirete poi, ovviamente già chi mi segue da diverso tempo sa qual è la mia view a riguardo, però il discorso è che semplicemente io non vedo il futuro e questa è una mia opinione a riguardo. Quindi non odiatemi se semplicemente la penso in una maniera diversa dalla vostra e se magari in questa puntata andrò a fare un'analisi sulla vostra altcoin preferita e ne parlerò male perché secondo me è una situazione difficile, semplicemente, da persone mature, scrivetemi poi qua sotto nei commenti i motivi per i quali secondo voi invece mi sbaglio, ok? Mi raccomando ragazzi, questo è sempre importante. Per cui, torniamo a dove eravamo prima. Ci sono due momenti di bear market. Il primo che, come vi dicevo, è secondo me già stato lasciato alle spalle, cioè quello più aggressivo dove in 378 giorni abbiamo fatto un meno 77% su bitcoin. Sulle alte abbiamo vissuto anche meno 90, meno 95% e anche progetti che sono falliti, ok? Mentre al momento siamo in questa situazione di, io la chiamo lateralizzazione, di situazione prima dell'alving, no? Dove nell'anno prima dell'alving bitcoin tendenzialmente fa metà anno positivo e metà anno negativo. Al momento siamo su bitcoin che abbiamo avuto una prima metà dell'anno positiva e questa seconda metà dell'anno al momento non è iniziata proprio con il piede migliore per i tori e infatti, come vi ho già detto, io mi aspetto una seconda metà di questo 2023 non proprio positiva. Questo non significa che bitcoin andrà a 1000 dollari, ok? Lo sapete quali sono i miei target, questo poi non è un video su bitcoin. Se siete interessati a qual è la mia posizione su bitcoin, ci sono mille video a riguardo sul mio canale, potete anche sempre rimanere aggiornati sul mio gruppo Telegram completamente gratuito. Tartolo, trovate il link qui sotto nella descrizione di questo video. Cliccate in descrizione, trovate il link per il gruppo Telegram e anche a quello dei trades perché adesso andremo anche su questo gruppo per farvi capire alcune note che vi ho scritto. Quindi, siamo in questa situazione di mercato in cui, sì, ok, non è bear market così potente, ma siamo in situazioni in cui comunque il mercato non cresce, ok? Il mercato non cresce o se cresce, l'interesse che c'è dietro questo settore non cresce. Motivo per il quale bitcoin al momento non sta salendo. Bitcoin non sale, le cripto non salgono perché non ci sono nuovi soldi all'interno del settore. Detto ciò, perché non sto investendo in altcoin? Il primo motivo, ma che è essenzialmente il motivo principale, è che le altcoin sono da stare alla larga in momenti di bear market. Perché? Perché sono strumenti di risk on. Ve l'ho spiegato, eccoci qua, su gruppo Telegram dedicato ai trades. Ragazzi, continuo a non capire l'interesse dietro le altcoin in questo momento. L'interesse su bitcoin è bassissimo, figuriamoci sulle alt. Siamo ancora in una fase di bear market nelle cripto e quindi in una situazione di risk off. I partecipanti nel mercato si prendono meno rischi. Questo è fondamentale da capire, ragazzi. Ci sono delle fasi risk on, risk off, anche sui mercati tradizionali. Sulle cripto in questo momento siamo in una fase di risk off. Cioè significa che le persone o stanno sulle stable coin o stanno sui cosiddetti safe even, ok? Cioè praticamente i paradisi sicuri, ok? Gli asset sicuri. Perché questo? Perché in questa situazione di risk off una persona non va a prendersi dei rischi. Perché? Perché manca interesse, non ci sono nuovi soldi all'interno del mercato. Insomma, cose che ci siamo già detti mille volte. In un prossimo, non lontano futuro, poi verrà approvato anche un ETF spot su Bitcoin. Al momento non c'è nessun ETF spot sulle alt se non su Ethereum, che anche lì Ethereum è un discorso leggermente a parte rispetto alle altre coin, però ovviamente rientra in quella categoria. Cosa pensate che possa fare la dominance di Bitcoin una volta approvato l'ETF spot? Scendere, un alt può fare il meno 90% e da quei livelli fare un altro meno 90%. La dinamica dietro l'altcoin non è la stessa che c'è su Bitcoin. Ragazzi, è importante. Le alt che andavano di moda nella scorsa Burran potrebbero non andare più di moda nella prossima. E questa cosa qui ve l'ho spiegata miliardi di volte. Soprattutto quando? Quando? Guardate, questo video è di maggio 2022. Ancora prima del crollo di Terra Luna. E vi dicevo, ragazzi, pericolo altcoin ora. Ecco perché io non ci investo. E vi scrivevo, la verità è questa, il 99% dell'altcoin va e viene. Non vi faccio vedere la... Vabbè, qui avevo mandato degli snapshot, degli screen, delle classifiche dell'altcoin di diversi mesi fa, anni fa. E vi dicevo, per questo ragazzi, come vi dico sempre, non investi in altcoin sul lungo termine, ma solamente quando Bitcoin è in forte tendenza rialzista. Ok? Questo è, il rischio è troppo alto. E c'è l'occasione di trovarsi in un pugno di mosche. Non ascoltate chi vi dice per cento, per mille, eccetera, eccetera. Questo è il discorso. E qui, ragazzi, eravamo a maggio 2022. Ma era la stessa identica cosa che vi dicevo anche a febbraio 2022. Vi dicevo, ragazzi, siamo in una situazione in cui il mercato non è rialzista. Rialzista. Ok? Situazione in cui il mercato non è rialzista. Semplicemente qui Bitcoin scambiava ancora 43 mila dollari. Bei momenti. Però, in una condizione di mercato in cui Bitcoin non è forte, le altcoin non sono, secondo me, lo strumento ideale. Poi, continuando, la maggioranza delle alt non fa nuovi massimi storici e perde costantemente valore in prezzo di Bitcoin. E adesso poi andremo a vedere anche i grafici. Ricordatevi anche il discorso della pressione di vendita e dei cosiddetti bag holders non appena la situazione di mercato migliora un attimo. Con questo non dico che le alt siano in male. Io sono il primo sostenitore. Ma semplicemente vanno sfruttati nei soli momenti opportuni, ovvero in bull market. Quando c'è, passatemi il termine, ignoranza nel mercato. Ci sono soldi nuovi. Ragazzi, gli exchange non licenziano le persone. Come sta succedendo adesso. Ok? Come è successo nei mesi scorsi. Questo è il discorso. Quando Bitcoin è forte tendenza. Ok? E andiamo a vedere cos'è successo sulle altcoin dall'inizio del bear market forte. Parliamo di novembre 2021, ma tendenzialmente da il 2022. Ragazzi, Ethereum. Tra l'altro, quando vado a vedere questi grafici, li guardo in prezzo di Bitcoin. Perché non in prezzo di USD? Perché in prezzo di Bitcoin semplicemente vedo che se il grafico va giù, significa che in poche parole, quella crypto sta perdendo in prezzo di Bitcoin. Quindi sta facendo peggio di Bitcoin. Se invece il grafico va su, quella altcoin sta facendo meglio di Bitcoin. Ok? Andiamo a vedere. Inizio 2022. Praticamente il 2022 inizia qua. Ok? Adesso devo andare a prendere il righellino che a me piace tanto, ma che non trovo mai. Ed è sempre così. Quindi io, al momento, dov'è il righello che mi piace? Forse è qui. Eccolo, perfetto. E vi faccio vedere che dal 2022, guardate, 31 dicembre, guardate. Questa è Ethereum BTC. La cripto più sicura dopo Bitcoin. E con sicura, ovviamente non dico che è sicura, cioè, passatemi questo termine, con sicura dico che è quella che presenta un rischio inferiore. Perché? Perché ha una capitalizzazione più alta di praticamente tutte le altre cripto all'interno del mercato. Dopo Bitcoin. Quindi più alta è la market cap e inferiore dovrebbe essere il rischio. Ok? Ovviamente sempre in linea teorica. Però guardate, Ethereum BTC meno 22%. Cioè significa che da inizio bear market, cioè da, non ho preso ragazzi novembre, non ho preso novembre, ma vi ho preso l'inizio del 2022. È da praticamente due anni che Ethereum non fa altro che perdere valore in prezzo di BTC. Ovviamente, vedete che non è che abbia fatto proprio così schifo. Cioè il grafico si fa un po' lateralizzazione, però ha avuto comunque anche dei momenti post-merge in cui aveva anche tra l'altro sovraperformato BTC. Però vedete che poi ha lasciato un po' il tempo che trovava. Per cui al momento meno 22% dal inizio del 2022. Ok? Poi andiamo a vedere altre cripto. E io, tra l'altro, voglio andare a vedere le cripto che andavano di moda. Perché questo ragazzi? Perché questo crollo delle altcoin sta, come vi ho fatto vedere, succedendo già da diversi anni. E vi voglio far vedere apposta, voglio farvi vedere le cripto che andavano di moda nella scorsa bullrun. Anche se Cardano andava di moda anche nel 2017. Però, perché questo? Perché questo? Perché ragazzi, le altcoin, che vi piacciono o meno, vanno di moda. Ok? Questo ne ho parlato molto bene nel report delle altcoin che avevo condiviso mesi fa, che adesso non è più disponibile. Ma presto tornerà disponibile con degli aggiornamenti, ve lo prometto. Però, tra l'altro, l'ho condiviso anche gratuitamente. Ragazzi, il discorso è semplice. Il discorso è che le alt vanno e vengono. Quello che andava di moda nella scorsa bullrun non è detto. E molto probabilmente non andrà di moda nella prossima. Perché? Perché anche ragazzi, ci sono quelli che hanno comprato tipo Cardano qua, in tutto il 2022. Magari hanno fatto pieni di accumulo su Cardano. E non hanno fatto altro che scendere. Cosa pensate che accada? Nella prossima bullrun. Magari Cardano inizia a salire. Ci sono loro che vendono perché hanno comprato qua. Ragazzi, vendono e quindi, di conseguenza, Cardano, guardate, guardate, tra l'altro, già rispetto al 2018. Vedete che Cardano non ha fatto neanche dei nuovi massimi in prezzo di Bitcoin rispetto alla bullrun del 2017. Perché questo? Perché è un token già vecchio. E ve lo posso garantire. Cioè, ci metto veramente la mano sul fuoco. Poi andremo a rivedere questo video tra qualche anno. Io sono sicuro che Cardano non riuscirà a fare dei nuovi massimi storici in prezzo di Bitcoin. Cioè, sono 99,9%, ragazzi. Sicuro che Cardano magari adesso scenderà, magari ritornerà in questo box. Non so effettivamente quanto scenderà. Secondo me, comunque, questo sanguinare delle cripto in prezzo di Bitcoin non è finito qua. Non sto dicendo in USD. Sto dicendo in prezzo di Bitcoin. Non è finito qua. Però vi posso garantire che, secondo me, nella prossima bullrun non salirà in prezzo di Bitcoin. Ora, comunque, guardate cosa ha fatto Cardano. Dal 2022, guardate. Praticamente qua, boom. Meno 70%, ragazzi. Meno 70%, non in USD. In prezzo di Bitcoin. Cioè, tenendo semplicemente Bitcoin, mi risparmiavo un meno 70% in più che ho avuto su Cardano. Ripeto, non vi faccio vedere quelli in USD. Perché se no vi spaventate e vi fate ancora male. Guardate DOT, Polkadot, che andava stra di moda, ragazzi, nella bullrun. Guardate. Tra l'altro, di Polkadot, questo grafico è vecchio, ve ne parlavo già in questi video qui. Dove dicevo, guardate, che secondo me non va a finire bene. Ancora, Polkadot. Guardate, Polkadot, eccola qua. Meno 74% in prezzo di Bitcoin. Ragazzi, queste cripto, queste, e mi vengono a dire, ah, un'opportunità incredibile, irripetibile. Ragazzi, semplicemente, non ne vale la pena, a mio modo di vedere, ok? Perché poteva benissimo essere questo, il bottom. E poi, da qua, cosa ha fatto? Il prezzo ha deciso di fare un altro meno 30%. E questo è il rischio, ragazzi. Qui, sulle alte, non bisogna cercare di prendere il minimo. Semplicemente, quando la tendenza sul mercato cripto in generale, quindi soprattutto su Bitcoin, torna ad essere rialzista, lì è il momento. Quando Bitcoin inizia a pompare, lì è il momento di andare sulle alte. Non ora che Bitcoin fa schifo, lateralizza, non c'è interesse, le visualizzazioni sul mio canale YouTube diminuiscono. Ragazzi, non è questo il momento, perché manca interesse. Una persona non va, in questo momento, a investire sulle alte, che vi piaccia o meno. Con tutto il discorso, poi, inflazione, che hanno tanti token. Cioè, ragazzi, potremmo aprire veramente una parentesi grandissima. Matic, ragazzi, Matic. Matic BTC. Sì, non ha tenuto malissimo, però guardate dove siamo. Da inizio 2022, tra l'altro ha fatto un 2023 disastroso, Matic, rispetto al 2022, che tutto sommato aveva tenuto anche bene. Guardate, Matic, prendiamola da qua, meno 62% di una delle cripto che aveva performato meglio nello scorso ciclo rialzista. Meno 62%. Ragazzi, meno 62%. Andiamo a vedere le cosiddette DinoCoin. Ok, come lo sarà poi anche Cardano, che vi piaccia o meno. Questa è Litecoin, ragazzi. Litecoin, no, ho sbagliato. Litecoin BTC. Litecoin BTC, ragazzi. Questo è il discorso. Guardate, questa cripto può essere anche simile a... Tra l'altro questa è stata lanciata nel 2013. Guardate, Burran 2013. Poi, Burran del 2017. Burran del 2021. Vedete? Non fa nuovi massimi in prezzo di Bitcoin, ragazzi. Ed è questo quello che la maggioranza delle altcoin fa. Cioè, perdere costantemente valori in prezzo di BTC. Ora, ripeto, non sto dicendo che le alt siano il male. Anzi, le alt, ragazzi, sono l'unico modo per diventare veramente ricchi in breve tempo. Fare davvero tanti soldi in breve tempo su questo settore. Perché? Perché, avendo una capitalizzazione di mercato inferiore, fanno delle percentuali maggiori rispetto a Bitcoin. Però il discorso è che semplicemente vanno sfruttate nei momenti opportuni. Ok? Perché se no, si rischia semplicemente di vedere proprio il portafoglio piangere e sanguinare costantemente. Andiamo a vedere altre altcoin che andavano di moda sempre nella scorsa Burran. Avalanche, ragazzi, Avalanche, super alcoin nella scorsa Burran. Guardate dal 2022 ad oggi. Meno 85%, ragazzi. Cioè, questo è il discorso. Questo è il discorso. Meno 85%. Cioè, ti può fare benissimo questa cripto. Ti ha fatto meno 72% in prezzo di Bitcoin. E da quei meno 72% te ne fa un altro meno 40%, ragazzi. E mi parlate di DCA. Mi parlate di quello che è fare piano di accumulo. Andiamo a vedere Ripple. Ripple BTC. Ripple so che è una community fortissima. Per cui devo fare attenzione a quello che dico. Sennò mi linciate. A parte gli scherzi. Guardate semplicemente Ripple. Ripple, cripto che andava molto di moda nel 2018. 2021 non è riuscito a fare dei nuovi massimi in prezzo di Bitcoin. E al momento, da praticamente il 2022, forse anche leggermente... No, è in pari. Diciamo che è in pari. Quindi Ripple è per assurdo quella che ha tenuto meglio tra tanta al coin. Perché è riuscita più o meno a fare zero. O comunque tenere il prezzo di BTC. Ma sul lungo termine, cioè, questo è sempre comunque una cripto che va giù in prezzo di BTC. Parliamo di quelle un po' più speculative, ragazzi. Shiba. Shiba, ragazzi. Shiba BTC. Guardate qua. Shiba BTC. 2022. Guardatela da qua. Boom. Meno 60%. Insomma, ragazzi. Capite che potrei andare avanti, avanti, avanti tantissimo a farvi vedere tutte queste al coin. Vediamo che altre alt posso farvi vedere. Posso farvi vedere anche BNB. BNB BTC, che è andata molto, molto, molto bene nella scorsa bull run. Guardate, BNB BTC, praticamente da inizio 2022, ha fatto, eccola qua, 2022, un meno 30%. Cioè, ragazzi, non c'è alt che si salva. Dominance di BTC. Dominance che deve andare su, ragazzi. Tra l'altro, questa dominance è un po', come posso dire, è un po' sbagliata a vederla, perché comprende le stable coin, e quindi non è proprio totalmente corretta. E poi TradingView ogni tanto aggiorna, per quanto riguarda i dati sull'al coin. Per cui, è da prendere sempre un po' con le pinze. Io vi condivido ogni tanto questo grafico, che è senza le stable coin, ed effettivamente quello che secondo me è da guardare. Guardate. Guardate a che livello è. 55-56%. Per cui, il discorso è che semplicemente, in questa fase di mercato, io sono più bullish, per assurdo, quasi sulla dominance di BTC, che su BTC stesso. Perché poi ancora? Perché? Perché, ragazzi? Perché? Perché poi? Perché non siamo in bull market? Perché BTC non salirà a breve? Ragazzi, guardate le probabilità per un rialzo di tassi di interesse, ok? Ragazzi, fino a 2024, giugno 2024, non c'è un taglio di tassi di interesse. Non c'è. Guardate il prezzo del petrolio. Guardate anche altre cose che vi ho condiviso sempre qua sul mio gruppo Telegram completamente gratuito. Il petrolio continua a salire. Avete visto i pezzi della benzina? Arriverà l'inverno. Ragazzi, il ROI di Bitcoin da inizio anno. Questo per dirvi semplicemente che le altcoin sono degli strumenti incredibili, incredibili, ragazzi. Sono degli strumenti che veramente possono far cambiare la vita alle persone. Ma il problema è che sono strumenti delicati e strumenti che vanno utilizzati unicamente in bull market. Ragazzi, e questo non è un bull market. Vi ho fatto vedere, non ovviamente escludo, che da qua ai prossimi mesi queste altcoin possono perdere ulteriormente livello in prezzo di BTC. E soprattutto anche in prezzo di Ethereum che, tutto sommato, comunque è l'altcoin che, diciamo, tiene meglio in tutto il mercato cripto. Per cui già perdono in prezzo di BTC e soprattutto anche in prezzo di Ethereum. Io l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, cioè piuttosto una persona, se vuole prendersi dei rischi maggiori, vuole andare sulle alte, va a vedere cosa fa determinata altcoin in prezzo di Ethereum. Cioè, semplicemente, ce l'ho con Cardano oggi, scusatemi se mi odierete, i fan di Cardano mi odieranno. Però, perché io devo andare a mettere i miei soldi su un progetto che presenta un rischio maggiore rispetto a Ethereum e che fa, tra l'altro, delle performance peggiori rispetto a Ethereum? Questo è il punto, ragazzi. Cardano potrebbe prendere mille, 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 mille esempi. Perché poi ci sono sempre più criptovalute e nuove criptovalute che non hanno un passato, che non hanno una pressione di vendita, che non hanno persone che continuano ogni volta a comprare e che non appena sale il prezzo queste qui vendono. Progetti che magari hanno ancora delle inflazioni sui propri token, che è ancora bassa, o comunque è in una fase iniziale, per cui c'è interesse su quella cripto, per cui ci sono dei fondi che comprano, che comunque mettono dei soldi. Non ci sono successi dei casini, hack, storie, storielle. Ragazzi, è anche un discorso di moda, per cui, ve lo ripeto, le altcoin vanno assolutamente bene. Sono il primo a essere, ragazzi, ero il primo nel 2021 a dire, ragazzi, le altcoin top, effettivamente, sono quelle che poi fanno fare i veri guadagni su questo settore. Ma, ripeto ancora una volta, solamente in bear market. Prima di salutarci, vi ricordo che Zumex, Exchange senza KYC, sta dando un airdrop di 25 USDT quando voi fate un volume di trading superiore a 1000 USDT e un deposito minimo di 100 USDT sulla piattaforma. E in più sta anche organizzando una competizione di trading in questo momento. Quindi, se volete utilizzare un exchange senza KYC, tra l'altro ho fatto anche un tutorial su Zumex, questa può essere un'ottima alternativa. Tra l'altro, il bonus è anche prelevabile, quello dei 25 USDT. Ripeto, dovete semplicemente depositare 100 USDT, fare un volume di trading almeno di 1000 USDT, quindi quei 100 USDT per 10 e avete fatto, diciamo, quel volume. E poi potete ottenere 25 USDT totalmente prelevabili. Ragazzi, per questo punto è tutto, noi ci vediamo alla prossima e, mi raccomando, ricordatevi quello che vi ho detto e fatemi sapere, ovviamente, cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ciao!